Papa Francesco si è rivolto mercoledì a una grande folla di fedeli in Vaticano, esprimendo la sua vicinanza al popolo libanese, definendo inaccettabile la recente escalation nel paese. Le tensioni tra Israele e il gruppo militante libanese di Hezbollah sono aumentate negli ultimi giorni, con attacchi trasfrontalieri che rischiano di spingere la regione verso un conflitto più ampio. Auspico che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa terribile escalation. E' inaccettabile. Esprimo la mia vicinanza al popolo libanese che già troppo ha sofferto nel recente passato. Il Papa ha anche chiesto ai fedeli di pregare per lui, in vista del suo prossimo viaggio in Lussemburgo e in Belgio, che rimane in programma, nonostante il Pontefice abbia annullato tutte le sue udienze lunedì scorso a causa di un leggero stato influenzale. Il Belgio gli riserverà un'accoglienza interlocutoria, in considerazione del fatto che il paese deve fare i conti con l'eredità di abusi sessuali da parte del clero e con l'insabbiamento istituzionale che ne è seguito. Francesco incontrerà i sopravvissuti agli abusi che hanno scritto una lettera aperta. Il primo ministro albanese, Edirama, ha ribadito che l'accordo per ospitare i migranti nei centri d'accoglienza costruiti nel paese è valido solo per l'Italia, nonostante il crescente interesse internazionale. La notizia arriva pochi giorni dopo le parole della prima ministra italiana, Giorgia Meloni, secondo cui anche il premier britannico, Keir Starmer, ha espresso grande interesse per il progetto. L'Italia potrà trasferire fino a 36.000 richiedenti asilo all'anno in due centri di accoglienza in Albania, in attesa che le pratiche vengano esaminate. I centri, primi nel loro genere, avrebbero dovuto aprire nella primavera di quest'anno, ma il progetto ha subito ritardi. Il programma è stato apprezzato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e sta guadagnando consensi tra i governi europei. 15 stati membri, guidati dalla Danimarca, hanno chiesto congiuntamente l'esternalizzazione della politica di migrazione e asilo per far fronte agli arrivi. Rama ha dichiarato che il suo governo sta cercando di offrire una soluzione pragmatica a un tema politico scottante in Europa. When we decided to do this, we decided based on the feeling of responsibility as neighbors, as Europeans. Of course, we are not Europeans with the EU, but we are still E, so we are Europeans, and this cannot be taken from us. And this is also something we did instead of not doing anything. So, is it new or is it not new? Is it innovative or is it not innovative? It will work or it will not work. This is all to be seen, but for sure it's better than just fighting ideologically about this issue. Rama ha anche negato che la mossa, vista come una soluzione innovativa a una delle questioni politicamente più divisive del blocco, possa dare all'Albania un vantaggio competitivo nella sua richiesta di adesione all'Unione. Tirana è candidata all'adesione dal 2014. I finanziari del Comando Provinciale di Catania due provvedimenti del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Etneo con cui sono state disposte misure cautelari personali e reali nei confronti di nove persone, ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso con ulteriori 12 soggetti, dei reati di traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante della transnazionalità. Le investigazioni traggono origine dallo sviluppo di talune risultanze emerse nell'ambito di altro procedimento condotto dal predetto reparto. Gli approfondimenti effettuati dalle fiamme gialle catanesi avrebbero consentito di delineare la struttura di due distinte consorterie criminali, caratterizzato da collaudati e consolidati stratagemmi finalizzati all'importazione sul territorio nazionale ed esportazione verso l'isola di Malta di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, un primo sodalizio sarebbe stato operativo nell'Interlandetneo e nella provincia di Siracusa occupandosi direttamente dell'approvvigionamento anche mediante importazione dalla Spagna, di cocaina, hashish e marijuana, effettuandone i relativi trasporti sia verso l'Italia che verso Malta. In tale contesto sarebbero emersi rapporti d'affari del sodalizio anche con un soggetto condannato del clan, Cappello Bonaccorsi, il quale sarebbe risultato uno degli investitori in relazione ad alcuni carichi di marijuana. Il secondo gruppo criminale avrebbe sfruttato la capacità dell'altro sodalizio di movimentare importanti quantitativi di stupefacente per occuparsi della gestione della vendita al dettaglio del narcotico nelle locali piazze di spaccio della provincia etnea e aretusea. Punto di contatto tra le due strutture associative sarebbe stato un soggetto facente parte di entrambe le compagini criminali. Nel corso delle indagini, a conferma del quadro indiziario acquisito, sono stati effettuati in più fasi diversi sequestri di sostanza stupefacente per una quantità complessiva di circa 18 kg di cocaina, 41 kg di hashish e 50 kg di marijuana che hanno portato all'arresto, in flagranza, di otto soggetti. Questa procura distrettuale della Repubblica nell'ambito dell'attività investigativa svolta dai carabinieri della stazione di Acireale a carico di un 59enne catanese, pregiudicato, indagato per atti persecutori, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania, l'applicazione nei suoi confronti, della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di controllo elettronico, i di vieto di comunicare per via telematica e telefonica con chiunque. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte persecutorie dell'indagato nei confronti della ex fidanzata, dal maggio 2022 fino a luglio 2024. Gli atteggiamenti vessatori sarebbero cominciati sin dall'inizio della loro relazione in quanto l'uomo, possessivo e animato da immotivata gelosia, le avrebbe imposto di non frequentare gli amici, controllando i suoi spostamenti, e anche quelli dei suoi familiari, per essere certo che lei non incontrasse altre persone, le dinamiche di controllo avrebbero, dunque, compromesso sia la qualità della vita della vittima che la loro relazione, tanto da far nascere in lei, già dopo alcuni mesi di frequentazione, l'idea di troncare il rapporto. Alle prime avvisaglie di tali decisioni però, il compagno avrebbe reagito minacciandola di rivelare la loro storia ad un figlio di lei fortemente contrariato dal fatto che la madre potesse frequentare un altro, e poi arrivando a intimorirla tuttavia, le condotte offensive e minacciose e i continui pedinamenti, non solo della vittima ha portato quest'ultima a lasciarlo, questi atteggiamenti hanno causato nella vittima un perdurante stato di ansia e lei, pur di riuscire a sfuggire al controllo dell'ex sarebbe stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita, spaventata per la propria incolumità. La vittima, ormai esausta e spaventata che le persecuzioni del 59enne ha deciso di denunciarlo. La premier Giorgia Meloni ha ricevuto a New York il Global Citizen Award 2024 dell'Atlantic Council per il suo ruolo pionieristico di prima donna a capo di governo in Italia e il suo sostegno all'Unione Europea e all'Alleanza Transatlantica. I know that we should not be ashamed to use and defend words and concepts like nation and patriotism, because they mean more than a physical place. They mean a state of mind to which one belongs in sharing culture, traditions, values. A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato il patron di Tesla, X e SpaceX Elon Musk. Il magnate sudafricano ha diversi interessi commerciali in Italia e dovrebbe discutere delle ulteriori opportunità di investimento nei settori dello spazio e dell'intelligenza artificiale. Le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 27 settembre di Globus Television. Venerdì, regime anticiclonico sulla nostra regione. Giornata contrassegnata da condizioni di bel tempo, cielo prevalentemente sereno. Nuvolosità scarsa e occasionale. Temperature massime in aumento fino a 34 gradi, valori notturni stabili. Mari, Martirreno poco mosso, Marionio mosso, stretto di Sicilia da poco mosso a mosso.